L'abbiamo visto tutti quanti, queste immagini, però in quel momento non abbiamo fatto caso al vaso, che tende a essere discreto. Uno sta lì, guarda Biden, lei di caga, dice vai adesso stai a guardare. Guardiamo meglio. Ora, occhio, è già qua un po' qualcosa, si vede, ma io vado, ok? Vado. Già qualcosa, se entra vedi, più attenti già, però andiamo avanti. Qua c'è Kamala Harris, qua già qualcosa si intravede volendo, però andiamo avanti. Occhio alla mano di Kamala, occhio alla mano di Kamala. Una presenza discreta. Io, Joseph Robinette, Biden Jr., do solemnly swear. Congratulations, Mr. President. Aumenti importanti per gli Stati Uniti, un po' per tutti. I grandi della terra erano presenti. Ecco qua, tutti si congratulano con Biden. Ti saluta. Attenzione al rapido, ecco qua. C'era! C'era, 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 c'era.